Stile italiano e giovani talenti affermati nel panorama internazionale sono il filo conduttore della seconda parte della 63esima stagione concertistica promossa da Lente Concerti che fra gennaio e aprile propone sette appuntamenti in un cartellone confezionato dal direttore artistico Federico Mondelci che spazierà dal 600 al 900 con grandi protagonisti ad alternarsi sul palco del teatro sperimentale. Concerto inaugurale domenica 8 gennaio alle 18 con lo straordinario violinista Giuliano Carmignola fra i massimi interpreti del barocco italiano che sarà impegnato in un omaggio ad Antonio Vivaldi e a Joan Sebastian Bach con l'orchestra dei solisti aquilani. Si prosegue sabato 28 gennaio col 19enne a un fan prodigio del violoncello Ettore Pagano in duo col piano di Monica Cattarossi. Accanto alle esperienze della musica barocca colta molto rilevante di Bach e di Vivaldi che ci che ascolteremo appunto nel primo concerto avremo anche una finestra aperta nella musica francese con Debussy e Frank c'è un ottimo duo per violoncello e pianoforte e la musica romantica di Chopin e Schubert e Schumann. Ma quello che voglio dire e che vi preme dire è che abbiamo una finestra aperta sulla musica russa. La musica russa è un ricco e valido e importantissimo patrimonio culturale artistico e soprattutto musicale per cui avremo avremo l'opportunità di ascoltare Tchaikovsky in un famoso trio in la minore nella opera tardiva opera 50. Musica russa che riapre il sipario il 4 marzo con Ivan Bessonov che apre a Pesolo il suo tour europeo e il 19 marzo con il metamorfosi ensemble e le musiche di Stravinsky poi approfondite anche il primo aprile dal ritorno sul palco della Forme Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Diego Ceretta con la presenza del talentuoso chitarrista pesarese Eugenio della Chiara. Chiuderà il programma il talento del pianoforte Filippo Gorini che si esibirà il 16 aprile e l'Arstrio di Roma che proporrà un imperdibile omaggio a Rachmaninov e Tchaikovsky nel concerto conclusivo del 30 aprile.